... Signore e signori, intervista al migliore in campo, Deo Staccio, Dele Speranz Partita più determinata contro l'Ajax, complimenti, come è andata la partita? Abbiamo sofferto moltissimo, perdevamo 3-0, la squadra ha lottato fino alla fine, 5 minuti, abbiamo ripassato la partita Posso dire una cosa? Ho fatto il primo gol su Caccio Vango grazie a me, perché io stavo davanti e ho detto Sergio scostati, sono fatto indietro la tira Allora è grazie anche all'arbitro quindi È una cosa brutta dire grazie all'arbitro che è piccola partita però complimenti, lo sa, chi vuole dedicare questa vittoria? Alla squadra, alla squadra Ma che c'è? C'è Gino Santo Nicola però devi fare una dedica particolare Gino, ci facciamo, vediamo È la mia princesa Ok, salutiamo la princesa Chi è che? Nuo acquisto Numero 17 Bravissimi Bocca lupo, brava ragazzi Brava Grazie a tutti ... Grazie a tutti.